Gruppo di Catania Domanda Puoi dirci qualcosa sul rapporto che abbiamo con i nostri animali domestici? Gruppo di Catania Come si dice comunemente nel vostro ambiente, voi diventate i padroni dei vostri animali, ma non è un rapporto di sudditanza, come potrebbe sembrare, è un rapporto di scambio energetico, e senza che ve ne rendiate conto, i vostri animali domestici apportano una quantità enorme di vibrazioni positive nella vostra casa, creano strutture protettive per il vostro benessere e diventano dunque i veri servitori, i custodi della vostra vita. Ma non sempre questo aspetto è così visibile, è così chiaro, perché a volte il rapporto tra uomini e animali può apparire distaccato. Comunque esiste sempre, a livello sottile, questo processo di dare e avere, importantissimo e prezioso, per chi ha scelto di vivere, di condividere la vita, con gli animali.